Tenendo conto però, è uscito un libro in Germania qualche mese fa che si chiama L'infarto della cultura che è un libro che pone il problema della diminuzione dei mezzi in generale non solo nel nostro paese ma nell'Europa ma pone l'accento su una questione forte cioè fare delle scelte, prendere decisioni. Il terzo elemento di consapevolezza, Stefano lo ricordava è il ruolo della cultura allora, intanto usiamo il plurale come in questo bel posto ruolo delle culture, multiplo, la pluralità questo è un concetto che mi piace molto perché è un elemento forte, essenziale, è declinabile perché è importante la cultura? Tutto quello che ha detto Stefano io lo condivido aggiungo che la cultura per esempio oggi può essere un attivatore di risorse di fiducia aggiungo che la cultura oggi può essere un elemento per ripristinare l'etica di cui forse abbiamo un po' bisogno su certi fronti aggiungo anche che è vero che la cultura può essere motore di sviluppo a condizione che superiamo un po' di retorica perché il problema che ha caratterizzato molti proclami anche molte dichiarazioni, diciamo, a partire dal manifesto del Sole 24 Ore è che tutto si risolva sul fatto che la cultura diventa, come dire, attivatore di flussi economici questo è stato il tormentone degli eventi per esempio ma ragazzi, la cultura ha un valore multidimensionale ha un valore sociale la parola comunità non potrebbe essere parola più giusta ha un valore simbolico ha un valore educativo ha un valore ovviamente anche psicologico cioè di elementi che incidono non lo dico io un economista a premio Nobel come Sen parla di cultura come elemento di capacitazione per libertà esteriori felicità un filosofo come Flynn dice che la cultura e grazie alla cultura e a processi sociali che aumenta il quotiente intellettivo allora io credo che questo sia un elemento per dire che la cultura può giocare veramente una centralità va assolutamente difesa forse con un coltello in mezzo ai denti poi che siano servizi che ci sia la produzione che ci sia il consumo che ci sia per esempio una circostanza di esperienza come quella che viene in qualche modo costruita all'interno di questo bellissimo posto credo che questo sia un elemento assolutamente condivisibile allora quali sono le sfide allora intanto mi viene da pensare che se c'è una situazione complessa un artigiano che abita sotto casa mia mi dice sempre Lucio ma insomma passiamo proprio tempi complicati e io dico no non sono complicati se fossero complicati vista come dire facciamo un po' di gioco la radice della parola sarebbero spiegati nelle pieghe invece no sono complessi significa che hanno un insieme che può essere in qualche modo compreso fino a un certo punto all'interno del sistema che lo caratterizza questo vuol dire che le questioni che vi ho raccontato prima sono questioni complesse sono domande complesse che richiedono risposte complesse e la complessità non la si riduce la si assorbe abbiamo bisogno quindi di una reazione elastica allora in questo senso i luoghi della cultura intendendo i luoghi della cultura tutti quei posti fisici o anche immateriali dove si fa produzione consumo si vivono le esperienze di cui dicevamo prima possono giocare un ruolo veramente importante mettendosi in condizione di dare quelle risposte complesse come? allora io ho provato a segnarmi come dire due o tre cose che posso lanciare un po' nella discussione allora intanto dico subito che ci sono già i pionieri di questo atteggiamento che sono proprio le biblioteche e sono i centri per la creazione contemporanea biblioteche che in alcuni territori sono veramente dei provider culturali territoriali e adesso poi dalle parole che vi dico capite vediamo di riscontrare se questo effettivamente funziona prima cosa sono luoghi che diventano agorà Stefano in cartella parlava di nuovi centri di gravità quindi baricentri baricentri dell'esperienza baricentri sociali ricordiamoci che tutti i luoghi lo dicevamo col sindaco come lo ricordava prima che tutti i luoghi tradizionali dell'incontro i partiti piuttosto che gli oratori piuttosto sono hanno perso quell'importanza i luoghi della cultura possono diventare assolutamente i posti fisici dove la gente si ritrova parla condivide insieme delle cose operatori culturali più attenzione al contesto vuol dire la capacità di leggere quello che succede intorno vuol dire la capacità di cogliere segnali deboli vuol dire la capacità di catturare le emergenze che non si intendono come urgenze ma si intendono come fenomeni che vengono dal basso avere un sogno sembra quasi un tormentone anche questo ma la capacità per le strutture culturali per esempio di poter guardare non solo l'albero ma l'intera foresta cioè l'idea di essere caratterizzati per un'immagine forte anche in pochezza di risorse con tutte le difficoltà con i vincoli che abbiamo ma essere proiettati verso qualcosa che si ritiene che sia effettivamente un elemento di coagulo dell'azione che viene svolta perdere l'autoreferenzialità ed essere da questo punto di vista in un bagno di maggiore umiltà e disponibilità verso l'esterno avere organizzazioni più duttili e su questo veramente la capacità di innovare i processi e innovare i sistemi di funzionamento perché i sistemi così come sono non sono adeguati a dare queste risposte complesse e a poter costruire dei sistemi d'offerta di queste strutture che siano per esempio sistemi d'offerta permeabili che possano integrare e aprirsi a suggestioni diverse che possano meticciare ambiti e contenuti perché nella complessità per esempio prendendo i linguaggi artistici il meticciato è già una pratica nelle arti performative ormai non esistono più gli steccati di che cos'è arte visiva arte contemporanea nuove tecnologie eccetera organizzazioni duttili flessibili con piacere ho scoperto che in questa struttura si sperimenta quello che nel mio linguaggio si chiama organizzazione matriciale cioè che incrocia le funzioni con i progetti che mi sembra una bellissima sperimentazione ma la cosa che mi è stata detta ieri sera è che non è definitiva e quindi c'è un processo evolutivo che mette nella valutazione in qualche modo quello che viene fatto finisco subito le collaborazioni le cooperazioni tre minuti le cooperazioni questo tavolo abbiamo un amico che rappresenta i privati noi le organizzazioni culturali su questo sono state fortemente ipocrite in passato il privato era un bancomat sostanzialmente il soggetto che lì interveniva e che doveva per il pubblico il privato era la soluzione a una deresponsabilizzazione in alcuni casi o a un'effettiva problematica di carenza di risorse personalmente io ritengo che il privato sia un soggetto attivo della cittadinanza diciamo della comunità che può avere in un diciamo meccanismo equilibrato un apporto forte non solo di risorse ma per esempio anche di competenze all'interno di quelle che possono essere come dire modalità di gestione ma anche soprattutto la parola che mi sta più a cuore che è la progettualità cioè la capacità che si possano costruire un linguaggio comune un punto di incontro comune in questo caso con i privati sul tema della progettualità dove il privato porta le sue logiche la sua visione le sue esigenze le sue necessità di partecipazione e di protagonismo all'interno della comunità di cui fa parte le cooperazioni significano anche costruzione di partenariati a geometria variabile vale a dire situazionali informali l'organizzazione culturale a questo punto deve diventare acrobatica esiste un concetto molto bello della complessità che si chiama co-petition che vuol dire per aracciarsi alle alleanze vuol dire collaborazione competitiva significa che anche con altre strutture culturali con altri soggetti con soggetti anche concorrenti parlando del privato si possono realizzare delle collaborazioni ad hoc in cui la ricombinazione di piattaforme progettuali diventa l'elemento di unione relazioni nel senso che questi posti questi luoghi devono diventare soprattutto il sinonimo di relazione e quindi di scambio e competenze intese come la capacità anche se serve ma soprattutto di apprendere non solo attraverso lo sfruttamento della conoscenza ma attraverso l'esplorazione di nuova conoscenza io credo che questi siano un po' gli elementi c'è una parola che in un certo senso mi piace legare un po' allo sforzo che hanno fatto per chiudere qui a Cavriago con Multiplo è veramente una bellissima parola non ci poteva essere come dire qualcosa di più rappresentativo di quello che rappresenta l'offerta la vocazione la missione di questa di questa struttura ma c'è una parola per chiudere un po' che è la parola utopia la parola utopia ci dà il senso di qualcosa che non si raggiunge uno scrittore come Galeano dice che la parola utopia è un po' quella tua donna che sta all'orizzonte tu fai tre passi lei fa tre passi in più e per quanto ti sforzi non la raggiungerai mai e quindi l'utopia lui dice serva ad andare avanti però mi piace pensare che sia invece un pochino più valido per noi in termini di sfide quello che diceva Rodari quando ricordava che l'utopia è il passaggio dal mondo dell'intelligenza al mondo della volontà grazie